La squadra che gioca a calcio è molto brava e pressa, il sistema di gioco più di 4-3-1-2, 3-4-1-2 spesso perché questo Gunnars è un giocatore che ha qualità, si mette spesso dietro lì nel centro campo. Però la squadra che sta facendo bene, e sappiamo che come carica spesso, chi viene a giocare contro di noi lo fa con il massimo dell'attenzione, con il massimo della concentrazione, questo è uno stimolo, noi la stiamo preparando bene con quelli che abbiamo, sono andato molto bene questa settimana perché sanno che qualcuno ha l'opportunità, io voglio vedere anche chi magari ha avuto la possibilità di giocare un pochino o meno, quando parlo di gruppo, è questo il gruppo, nei momenti dove magari vengono a mancare qualcuno ci sono altri ragazzi conti che sono andati sempre bene, quindi devono trovare anche mentalmente la capacità di darci qualcosa in più. Abbiamo recuperato sia Campagnacci che Vigliani che sono andati con noi in questa settimana, quindi non avranno sicuramente la forma ottimale, però sono a disposizione, questa è una cosa che mancheranno, come sapete, sono scodificati, farci l'acqua, i bastoni, non ci saranno i sconti, i polidori, e gli altri vengono con noi, viene anche un ragazzo nel 2002, Don Romello andava con noi, insieme a Musso, quanto ragazzo da Beretti, quindi si aggiungono una lista di quelli che quest'anno sono venuti nel centro giornale con noi, è una lista che sta diventando lunga. però questa è una partita per noi, come dicevano i ragazzi, è una coda da quello che abbiamo fatto a Catania, cioè bisogna dare continuità a quello che abbiamo fatto, bisogna prendere consapevolezza, dobbiamo capire che ogni partita, la giocata come se fosse l'ultima partita da affrontare, con lo stesso spirito e attenzione, indipendentemente chi gioca, perché la responsabilità è un po' di tutti, e quindi un buon goggimento generale. Domenico, sappiamo che domani, come dico spesso, però è una conseguenza, cioè una scuola che per portare a casa i punti bisogna fare la prestazione, una buona prestazione, bisogna andarci dentro, bisogna avere quelle qualità che fanno differenza, e domani la voglio vedere a tutti, servono a tutti.